Buongiorno, oggi è martedì 9 agosto, ascoltiamo il testo della parabola delle Dieci Vergine secondo il Vangelo di Matteo, essendo la festa oggi di Edilstein, cioè Teresa Benedetta della Croce, Carmelità la morta ad Auschwitz. Che cosa ci dice questo testo? Che è strutturale che il Signore è tardi, che lo sposo è tardi, ed è strutturale che tutti si addormentino ed è importantissimo che ciò che ridesta il percorso è il grido della notte, il grido cioè quindi un gridare che risveglia tutti. Poi certamente tutti si domandano che cosa c'è quest'olio, che viene a mancare da alcune, invece altri si sono procurato. Io credo che sia importante guardare la pagina successiva, che è la pagina dei talenti, la parabola dei talenti, cioè se sappiamo davvero in qualche modo assumere la responsabilità verso il mondo. Ecco, questo è l'olio con cui possiamo andare incontro allo sposo. Fate bravi, pregate per la pace e per la politica italiana. Ciao!